Dimmi come e quando ti ha dato il numero di telefono Robert De Niro. Ci siamo incontrati ad un evento. Mica alla Magliana come ci diceva Donato Carrizzi. No, 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 no. Prima Carrizzi ti ha detto che è venuta alla Magliana. No, no, no. Ci siamo incontrati ad un evento e lui appunto mi ha dato il suo numero di telefono e devo dire che ci siamo dati un bacio con Robert. Ah, davvero? C'è stato un bacio. Ma quel numero l'hai poi usato, l'hai chiamato? No, però ce l'ho ancora nell'agenda. Di la verità. Giuro. Ce l'ho memorizzato come Bob. Proprio Bob. Me lo mandi con WhatsApp. Sì, assolutamente sì, amore. Guarda. Baccia bene. No, 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 io sono, guarda, purtroppo sono fidanzata e monogama. Ascolta. Che c'entra un bacio innocente, tesoro, come potrei darselo anch'io. Adesso c'è un'età. Adesso c'è un'età, infatti parliamo, è sempre affascinante. Sì, non lo nego. Ma sai chi è l'uomo che io proprio farei pazzia, che proprio mi piace tanto? Robert Redford. Ah, certo. Robert Redford. Non niente. Però torno alla tua storia. Sì. Cene con il grande Federico Fellini ai Castelli, ti portava anche al circo e così? Allora, io ho una Polaroid che mi fece lui al circo, perché lui amava molto il circo. Era un eterno bambino Fellini e adorava vedere... All'epoca mangiavo di più, ero proprio ragazza, ragazza. E lui proprio adorava vedermi mangiare. Ah. È questo. All'epoca mangiavo di più, ero proprio ragazza, 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 ragazza. All'epoca mangiavo di più, ero proprio ragazza. All'epoca mangiavo di più, ero proprio ragazza, 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 ragazza.